E' stato inaugurato nel comune di Pimonte il rinnovato impianto di rilancio idrico muriscolo, un importante intervento che rientra tra le attività messe in campo da Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori e che consente di superare definitivamente i disagi legati alla carenza idrica che affliggevano alcune zone del territorio durante il periodo estivo. Oggi abbiamo presentato il programma in generale Azioni per l'Acqua, in più un intervento che abbiamo svolto in questi anni per risolvere una criticità tavica del territorio, cioè c'era una zona del paese, la zona di Belvedere, che soffriva durante il periodo estivo di carenza idrica. Abbiamo potenziato, grazie alla sinergia tra noi, la Regione Campania e l'Ente Idrico, il comune, la condotta e l'impianto di sollevamento e questo ci consente di guardare alla prossima estate, soprattutto per quei cittadini, avendo risolto un problema tavico di questa zona. Oggi abbiamo presentato il completamento del reticolo fognario del comune di Piemonte. È una giornata storica, proprio perché a inizio 2023 partiranno i lavori per completare il collettamento di tutti i repuli fognari che noi abbiamo a Piemonte su strade che non erano mai state servite da pubblica fognatura e lo facciamo all'interno di un quadro organico che punta a togliere tutti gli scarichi dai valloni che incombono su Castellammare di Sabbia e sul litorale sabbiese. Testimoniamo oggi innanzitutto l'attenzione a tutti i 76 comuni del nostro distretto. Il nostro distretto è estesissimo, sono 76 comuni, me ne sono abitanti, ma per noi tutti i comuni hanno parla di dignità e tutti i comuni sono protagonisti del rilancio che stiamo mettendo in campo con grande determinazione. Siamo stati capaci di intercettare risorse dai bandi nazionali, abbiamo 120 milioni di euro, una cifra straordinaria da investire per rilanciare e sistematizzare il sistema idrico integrato nel nostro territorio. Ci sono delle zone che ancora non sono coperte dal sistema idrico e fognario e che ora verranno finalmente coperte grazie agli interventi presentati quest'oggi. Poi c'è un impianto di sollevamento molto molto importante che è stato realizzato a Belvedere e che viene inaugurato proprio oggi. Una sinergia istituzionale fondamentale in questo momento storico in cui dopo la pandemia e con le conseguenze che ha sulla popolazione la crisi, ma anche con il grave problema dell'approvvigionamento idrico che ci ritroveremo ad avere nei prossimi anni, è fondamentale quindi avere una rete idrica che sia efficiente, che funzioni bene e che riduca al massimo quelle che sono le perdite.